Esistono profumi forti per i quali è porosa ogni materia, si direbbe che penetrino il vetro. Apri un cofanetto giunto dall'Oriente con la cerniera che stride e cigola, gridando a un armadio di una casa abbandonata pieno dell'odore acre del tempo, polveroso e nero, e ci troverai una vecchia fiala memore da cui balza viva un'anima risorta. Subito, mille pensieri addormentati, funebri crisalidi, fremendo dolcemente tra tenebre pesanti, ecco che spiegano le ali e prendono il volo, titti d'azzurro, lucidi di rosa, laminati d'oro. Ecco che ricordo inebriante ondeggia nell'aria torbida, gli occhi si chiudono, la vertigine rapisce l'anima vinta, la sospinge a due mani, verso un abisso oscurato da miasmi umani. E infine, la terra sul bordo d'un abisso secolare. Qui, odorante Lazzaro, che straccia il sudario, si muove nel risteglio il cadavere spettrale di un vecchio amore rancido, affascinante e sepolcrale. Quando sarò perduto nella memoria degli uomini, quando mi avranno gettato nel vano d'un sinistro armadio, vecchia fiala desolata, decrepita, sporca, tabbietta, vischiosa ed incrinata, Allora sì, che sarò la tua bara, peste amabile, testimone della tua forza e virulenza, caro veleno preparato dagli angeli, liquore che mi rodi, tu, vita e morte del mio cuore. Grazie 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 Grazie